Iniziamo il video con un gentile promemoria. Assicurati di premere il pulsante iscriviti e di lasciare un bel mi piace. Grazie! La splendida Lorella Cuccarini è una figura famosa, conosciuta per la sua eleganza poliedrica, la raffinatezza, la leggiadria e un fisico mozzafiato fin dai suoi esordi. Ha dimostrato di essere una delle artiste più complete del piccolo schermo, conquistando il pubblico con il suo contagioso sorriso, la sua energia positiva e l'amore per il mondo dello spettacolo. Lorella è una donna di indiscusso talento, amata dal pubblico per la sua grinta e solarità, e può contare su una solida famiglia e un vasto seguito di telespettatori. Il presunto conduttore della prima edizione di Temptation Island Winter è stato svelato dal provocatorio sito di Roberto D'Agostino, D'Agospia, e sembra proprio essere la mitica Lorella Cuccarini. Va sottolineato che, al momento, si tratta solamente di indiscrezioni senza conferma o smentita da parte della diretta interessata. Tuttavia, se Lorella dovesse davvero condurre il reality, i telespettatori sarebbero entusiasti, poiché la sua presenza è molto amata e apprezzata. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e sorprese.